Musica Benvenuti da Piero Gipardo e Giosè Altafini Ciao Giosigno Ah ciao Pier, non ho dormito tutta la notte pensando a questa partita come un ragazzino che deve avere un regalo il giorno dopo Entrano in campo le squadre Tutto pronto, la sfida può avere inizio Prova la salina ancora C'è un tocco largo sulla fascia Hanno un'altra occasione Sul contrasto qui, l'ultima a toccare il difensore dunque calcio ad angolo Occhio allo stacco di testa Occhio alla manovra d'attacco Ottimo il tackle qui Che botta Non può essere soddisfatto di questa conclusione Ha ricevuto bene la palla in profondità ma poi ha sbagliato tutto sul tiro C'è nessuno in area Il portiere può controllare Prova ad andare profondo Hanno chiuso bene Mette bene dentro Palla oltre la linea Nessun dubbio Calcio ad angolo Pericolo può tirare Ottima prestazione della difesa Anche in questo caso Eccolo Ha spazzato via di pugno Questa era una palla Gol potenziale Prezioso l'intervento del difensore Batte a rete C'è un solo giocatore dentro Cross alto e tagliato Pallone raccolto dal portiere Mantiene in possesso È in area Prova la fortuna Va sul rimbalzo Portiere non si è nemmeno preoccupato di questo tiro Il tiro Non è stato dei migliori Ma ha avuto coraggio a provarci Direttamente Tra le braccia del portiere Entra in area Buono l'intervento del difensore Che è riuscito a mettersi il piede Cross in area La colpisce bene Grandestro Ma non abbastanza angolato Provare ancora a spingere Hanno un'altra possibilità qui Colpisce con violenza Portiere che controlla Senza difficoltà Buon presso in difensivo Sarà rimesso laterale Può crossare in area Grande stacco di testa Arbitro che chiude il primo tempo Manda le squadre negli spogliatoi Tempo per recuperare Tempo per cambiare strategie Tempo per prepararsi alla seconda frazione Ripresa che ha avuto inizio Speriamo di vedere altri 45 minuti di grande spettacolo Taglia tutta la difesa Senza problemi Tra le braccia del portiere Qui c'è il pallone Hanno chiuso bene Bellissi Palla che quasi accarezza il palo sinistro Bellissimo il lancio in profondità Questa azione avrebbe meritato un finale migliore Palla fortissima Palla che esce non di molto Sulla sinistra Bel tentativo da parte sua Ci è mancato poco Gelson Fernandez Lo trova dentro Pallone spazzato via Sarà rimessa laterale Occhio al cross Perfetto nel gioco aereo Lontana Lo ferma in maniera chiaramente irregolare Aereo di rigore Che gol amici Il gol dell'uno a zero Straordinario Al volo Che tiro e che gol faboloso Con questa tecnica può segnare in qualsiasi situazione Un passaggio perfetto Bellissi Un po' cross in aria Vedremo se continueranno a difendere davvero così bene Riuscito a mantenerla Qui si prende qualche rischio Palla liberata Nessuno sarà ad aiutarlo La mette subito dentro Riceve può avanzare Provare ancora a spingere Facile presa del portiere Brutta lettura difensiva Cede il pallone Spazza via la palla Lupa palla Può ripartire Da fuori Grandestro Ma non abbastanza angolato C'è molta tensione in campo Risultato ancora in bilico Ci avviciniamo alla fine dell'incontro Nell'area Grande presa nel portiere Splendido l'intervento sul pallone Tiro da lontano Non può essere certamente soddisfatto Di questo brutto tiro Incredibile amici Se lo sognerà di notte Questo errore Arriva il fisico dell'arbitro Dopo 90 minuti Una grande compattezza difensiva Un solo squillo davanti Questo è bastato Per vincere la partita Per vincere la partita Questa è un'altra Questa è un'altra Questa è un'altra Questa è un'altra Questa è un'altra